Lavoro in corso per rendere l'intero parco San Bartolo sempre più visitabile, fruibile e soprattutto a portata di bus navetta. Va in questa direzione il lavoro dell'Associazione Riviera del San Bartolo, presieduta da Fabrizio Liva, in dialogo con le amministrazioni coinvolte di Pesaro, Gabicemare e Gradara. Si studia un valore aggiunto al cospetto del fatto che è venuta meno anche la presenza minima in tal senso, ovvero quella della navetta organizzata dal comune di Pesaro, temporaneamente soppressa dopo le recenti frane. Noi dobbiamo cambiare il sistema di collegamento che c'è stato fino ad oggi con San Bartolo, dove si partiva dagli scavi di Colombarone che sostanzialmente è stato un falimento perché i bus erano pochi frequentati, ma dobbiamo instaurare praticamente un sistema di collegamenti che parta sia da Pesaro sia da Gabicemare e che attraversi tutto il San Bartolo e che faccia diversi punti di sosta. L'obiettivo è quello di non marginalizzare dalla proposta turistica un'area naturalistica di assoluta eccellenza. Il San Bartolo sicuramente per noi è una grande risorsa, ci sono bellissimi borghi, ovviamente la fa da padrona Firanzuola di Focara che è stata insegnita anche del titolo di borgo più bello d'Italia, però non deve fermarsi solo su Firanzuola di Focara perché altrimenti avremo un collasso di presenze. Peraltro su Firanzuola di Focara esiste anche un altro problema, altri due problemi, quello dell'antenna che comunque va rimossa, io faccio parte anche del comitato della contro l'antenna e pare che ci stiamo riuscendo. L'altra cosa è quello di creare comunque un parcheggio per Firanzuola di Focara perché solo i pochi parcheggi a ridosso dell'ingresso dell'arco di Focara non sono sufficienti. Per cui noi dobbiamo lavorare per rivalizzare questo territorio ma dobbiamo farlo visitare perché fino ad oggi diciamo che si è fatta solo propaganda mediatica ma non si è fatto nulla di concreto.